Ora si inizia davvero e se lunedì suona la prima campanella ci vorranno due settimane di pazienza perché a tutti gli studenti delle scuole superiori lecchesi sia garantita la possibilità delle lezioni in presenza. A fare il quadro e chiedere ai genitori un minimo di comprensione il consigliere provinciale delegato Felice Rocca. Ci sono due temi che siamo stati chiamati ad affrontare, spiega il primo è quello del trasporto, il secondo è delle infrastrutture. Per quanto riguarda gli spostamenti degli studenti, l'aumento della capacità dei bus disciplinato dalla legge risolve parecchie criticità su segnalazioni dei dirigenti, siamo intervenuti con correttivi in alcune tratte. Venerdì faremo il punto alla luce dei primi giorni e interverremo, precisa Rocca, se necessario con ulteriori correttivi. Dobbiamo ad esempio capire quanti genitori decideranno di portare i propri figli a scuola in modo diverso. Più delicato il fronte delle aule scolastiche, l'obiettivo che ci siamo prefissati, puntualizza il consigliere delegato, è quello di garantire lezioni in presenza da subito al maggior numero di studenti possibili. Oggi però ci sono alcuni problemi in fase di risoluzione nelle scuole, nelle quali sono stati necessari cantieri per lavori di manutenzione straordinaria. Tutte le opere finiranno entro la prima settimana di ottobre. Uno dei casi più delicati è quello del liceo classico di Lecco, per il quale non sono ancora pronti prefabbricati. Si tratta di una situazione ancora più complicata, spiega Rocca, dove tutti gli enti coinvolti hanno però fatto il possibile per arrivare in tempo. Il Covid non ci ha aiutato. Capisco le preoccupazioni di professori, genitori e studenti di Chiara Rocca. Chiedo loro però un po' di pazienza. Stiamo parlando al massimo di una quindicina di giorni. Se tutti si rema nella stessa direzione sarà più semplice lasciarsi alle spalle questi mesi difficili.